Siamo insieme a vivere questa esperienza stupenda e in modo particolare per Patrizia e Giuseppe che hanno il loro senso profondo del loro esistere quello del donarsi, del dire sì l'uno all'altro ma dinanzi a Dio e Dio ha chiamato l'uomo e la donna a vivere questa dimensione di unità questa reciprocità, questo stare l'uno a fianco all'altro questa bellezza di essere partecipi del grande mistero del progetto di Dio di essere chiamati, convocati da Dio a vivere questo amore così meraviglioso nel sacramento del matrimonio grazie a tutti 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 Grazie a tutti